Siamo missili o mezze cartucce? In una frase ecco la sfida degli agenti immobiliari FIIP. Al Maxi, il Museo delle Arti del XXI secolo, sono state presentate le novità in arrivo, tra tecnologia e professionalità. Tutti noi agenti immobiliari e tutta la nostra federazione vuole e deve essere vettore, cioè portatore e portatrice di innovazione tecnologica, di iniziative, di visioni strategiche, di idee, di strumenti che possono consentirci di erogare il miglior servizio all'utente, al cliente, in uno dei momenti più importanti, se non il momento più significativo della vita di ognuno di noi che è comprare la casa. La rivoluzione digitale trasforma le nostre vite e le professioni. La federazione italiana, agenti immobiliari professionali, punta sull'innovazione e sulla collaborazione, crea piattaforme per mettere in rete i suoi soci e apre nuovi partner. Questa piattaforma informatica ci sarà un passaggio graduale, step by step, di tutta una serie di documentazione, alla fine della quale l'immobile sarà certificato una FIIP sulla base della PDR 40 2018 e avvallato dai consumatori. Al convegno del 16 ottobre è stata presentata la piattaforma CercaCasa.re, che aiuterà gli agenti a gestire le diverse fasi di vendita. Questa piattaforma che è stata progettata e avvede la luce in questi giorni, è sostanzialmente una piattaforma che permetterà agli agenti immobiliari FIIP di poter aderire a questa piattaforma e poter svolgere la completa attività dell'agente immobiliare supportato dai sistemi informativi. Per gli immobili non convenzionali già attiva la piazza degli affari, che mette in rete agenti di tutta Italia. Business Square è una piattaforma che presentiamo oggi qua al Maxi, una piattaforma ad uso e consumo, possiamo dire, degli associati FIIP, che all'interno dell'area riservata del nostro sito istituzionale troveranno questo strumento, che è uno strumento nato per la condivisione, quindi tra colleghi di tutta Italia, di immobili particolari. La rete, che da un lato spinge verso la disintermediazione, dall'altro crea nuove opportunità. Gli immobili italiani piacciono ai clienti stranieri, che sono più facili da raggiungere grazie al sito getaway.com. Noi mettiamo in comunicazione le agenzie che vogliono vendere case agli stranieri, quindi hanno un portafoglio immobili adatto al mercato estero, e i tantissimi stranieri che cercano una casa in Italia, quindi fungiamo da tramite. Per i clienti italiani c'è Idealista.it, portale di annunci immobiliari che valorizza il ruolo dell'agente immobiliare. A noi piace fare un distinguo molto chiaro tra i portali online che cercano e hanno l'obiettivo di disintermediare rispetto invece a quei portali online che valorizzano la figura dell'agente immobiliare, come Idealista.it, che oggi sarà presente, che come avrete visto fa una pubblicità orientata proprio a valorizzare la nostra figura. La tecnologia li aiuta a fare vedere ai loro clienti, agli utenti, questo mix un po' utente-cliente, che effettivamente possono innamorarsi dell'immobile a prima visita. E poi ci sono i social network, che è una opportunità da non trascurare. Completiamo con altri due video animati questa campagna digitale mediante social, che ha l'obiettivo di comunicare al cittadino che comprare e vendere casa da soli è rischioso, invece farlo con l'ausilio dei servizi di un agente immobiliare professionale è utile e nell'interesse del cittadino e a tutela appunto di chi si appresta a vivere un'esperienza unica come è quella dell'acquisto della casa.